chapter one tre tra parentesi punto è tutto molto chiaro ma no non sto qui a tradurlo giusto perché proprio non c'è tempo non c'è tempo si fa i barboni le lemosina niente da fare io riusciamo a fare niente vabbè vabbè sping spingiamo vai via eh vabbè zero forza però R2 porco ok vai ci siamo scusa perché quello magrolino a destra biondo non sale in macchina e quello biondo in macchina non va fuori a spingere perché è molto più grande ma che musica è mi ci prendo sette copyright perché poi oh madonna ma vado in mezzo alla strada non ci si devono fermare per forza fammi vedere la grafica va oh ma quello è uno rinoceronte veniamogli rinoceronte vabbè sa come si chiama tagliamogli la strada tagliamogli la strada tagliamogli la strada tagliamogli aha mo ti sei dovuto fermare stronzo no 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 eh vabbè allora non ci vogliono aiutare fare al fantasy 15 non me ne ero accorto che stavo gioco a fare al fantasy 15 meno male sei uh sette copyright ne prendo sette copyright grazie a sta canzone bastardi c'era bisogno di stand by me c'era proprio bisogno hey ma ciao ciao chi è sposa con qualcuno l'Aktis oh primavera l'Aktis grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sofia sofia l'Aktis che l'Aktis 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 Ma mi potrò muovere tra poco Non so che mi ha detto Perché? Ah vabbè grazie E questo? Non ci esplode tutto No Strano Sono a punti alti Dove aggrapparmi? No Mastardi No non posso usare Non posso usare le armi Mi sa che quando Cambio di botto direzione Si aiuta con la mano O no? I segreti Tac Beh questa è una cosa positiva Se ci sono veramente Se funziona così insomma Se ci sono item sparsi per la mappa Proprio nascosti grave così È un buon segno Nel senso Una cosa che apprezzo Perché Io sono sempre stato uno che Le mappe le spacca Va tipo dietro ogni cazzo di angolo A trovare tutte le cose più stupide Ecco infatti E se è veramente così È un punto a favore Perché È sempre stata Una cosa che mi ha sempre divertito Su Final Fantasy Nei Final Fantasy Oh Oh Ah ecco Starto c'è Sembra strano Item Ovviamente in questo caso Visto che è una beta Una beta Una demo Ci saranno item sparsi Ma item di Tipo pozze Basta Questo che vuole Le botte Ah Negozio Interessante Ah va Hai personaggi pixel sotto È per Noctis questa Ok Mi dà più stia di magia Quindi è una spada Che si lanciano Non ho capito come funzionano Le mie equip Ma vabbè Non credo sia il caso adesso Che vuoi Ah questo vuole No no voglio andare a mangiare Anzi prima andiamo qua Sera Salve Ok C'è qua Giornali Che vende Adesso signore Eh se mi parla però Ah sbagliato tasto Pozze Ok Eh sì sì Andiamo mangià Dina Dina Noctis 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 c'è un altro punto super ristorissimo laggiù quindi la mappa della demo è questa buono a sapersi ovviamente non faremo tutto che cosa vuoi mangiare voglio mangiare questo non posso questo non posso niente sono povera non posso mangiare niente missioni credo siano sì un'eliminazione buono accetto ovviamente poi mob hunt interessante il mob hunt posso accettare anche l'altra se non me lo chiude ogni volta magari ok non ho capito perché dovrei prendere le missioni da uno che da che data mangiare ma vabbè bounties e taglie però vabbè chi sta come se fosse una taverna ci posso ci posso stare dai una taverna 300 metri che sai che prima dobbiamo prendere la macchina però è che è pronta gas armi questa questa indica una stazione presumo di benzina quello un chocobo andiamo subito questo è un punto un segnale chocobo come funziona non è disponibile nella beta ok mamma non è disponibile nella beta eh Sara 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 Sonia come si chiamava ritambi la macchina ecco tu steno vabbè devo raccogliere qualcosa questo mi sta sul cazzo già non so perché la faccia da coglione ehi che menu elegante ok ci vanno da pieni mi sa eh equipaggiamento abbiamo altro no ah questi sono quelli sono i nomi ok giovanni qua che usa doppie spade e filippo usa le pistolette ok ci ho visto sui coglioni però vabbè ce lo faremo piacere filippo ma le armi me le stai dando o no ah 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 ah